La Val Camonica si candida ad essere la prima valle ad idrogeno del Paese. Questo giovedì mattina il gruppo FNM, partecipato al 57% circa da Regione Lombardia, con il Presidente Andrea Gibelli, con Marco Piuri, amministratore delegato di Trenort e in collegamento con il Governatore Lombardo Attilio Fontana, ha presentato nel dettaglio il progetto che fa della Valle Camonica e del Sebino la prima valle in Italia a sperimentare una nuova mobilità al 100% sostenibile, sviluppando la filiera dell'idrogeno. FNM questo mercoledì ha infatti deliberato l'acquisto di 14 nuovi treni ad idrogeno Alstom, che andranno a sostituire i 14 treni diesel ad oggi in servizio sulla linea Brescia-Eseo-Edro, gestita da Ferrovie Nord. I primi 6 nuovi treni entreranno in funzione entro 36 mesi e saranno alimentati dai 800 kg di idrogeno al giorno, che verranno prodotti nel primo impianto ad idrogeno che verrà realizzato a Eseo. Eseo, che è un punto baricentrico della rete, è un impianto di produzione che nascerà e si svilupperà su aree e terreni che sono di proprietà di FNM e di Ferrovie Nord e quindi assolutamente contigui alla stazione e agli impianti. A seguire verranno poi sostituiti gli ultimi 8 treni, che verranno alimentati da altri impianti ad idrogeno, i luoghi da definire, che porteranno la produzione totale a 2000 kg di idrogeno al giorno. I treni Alstom, società che per prima ha sviluppato in Italia la tecnologia dell'idrogeno legata ai treni, come spiegato da Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia, avranno la stessa potenza di 140 km all'ora dei treni Donizetti, stessa pendenza fino al 40 per 1000 e stesso carico per asse, ma avranno consumi più bassi, emetteranno vapore e acqua e saranno al 100% green. Trenord, per rinnovare i 400 convoi della flotta, ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro in un progetto che parte sulla linea Brescia-Eseo-Edolo, ma che è un progetto pilota da esportare su altre linee, per le quali si stanno progettando addirittura treni elettrici a batteria. Un progetto, quello della filiera di idrogeno in Valle Camonica, dal costo complessivo di circa 300 milioni di euro, come ha spiegato Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord e direttore generale di FNMN, sperimentale che parte dalla Valle Camonica e dal Sebino, territori riconosciuti come riserva della biosfera dall'UNESCO. Inoltre in Valle Camonica sono presenti molte centrali idroelettriche che possono permettere la produzione di idrogeno tramite l'elettrolisi. La totale decarbonizzazione per una mobilità al 100% green, autosufficiente dal punto di vista energetico, ad impatto ambientale zero e senza idrocarburi, passa dalla mobilità non solo su ferro ma anche su gomma e il progetto è di sostituire, a seguire, anche i pullman di FNM con pullman all'idrogeno. La filiera dell'idrogeno quindi potrà essere sviluppata per fornire energia anche in altri ambiti poi rispetto alla mobilità. Non solo la mobilità ma un'intera comunità consente di fare un salto direi quantico verso l'economia circolare, l'autosufficienza in termini energetici e il miglioramento della qualità della vita totalmente esclusa dall'uso di igrodorcarburi.